Realizzare una collezione pret-à-porter che traga ispirazione da alcuni miti protonuragici e che preveda l'utilizzo di tessuti e materiali legati alla cultura dell'isola, con al centro la figura femminile che nella cultura e tradizione sarda, fin dalla notte dei tempi con la Dea Madre, rappresenta il centro della famiglia e della società. E' questo il progetto Chardana che la fashion designer Carla Monni sta implementando. Nei giorni scorsi, nel sagrato della chiesa di Nostra Signora del Monte, la collezione è stata presentata nel corso di un defile. Che materiali utilizza per realizzare queste creazioni? Allora, diciamo che sia i materiali che le tecniche sartoriali trovano tutta ispirazione nella cultura sarda. Quindi io cerco di utilizzare materiali come il terziopelo oppure la lana di pecora grezza per tenere vivo questo gusto tipico isolano. Per quanto riguarda le tecniche invece mi sono rifatta principalmente a quelle del costume tradizionale sardo e ho cercato di modernizzarle, rendere proprie, attraverso appunto una personalizzazione cercando di riutilizzarle su tessuti nuovi come ad esempio broccati o tapezzerie rispetto che le lane o i cotoni appunto dell'abito del costume sardo. L'obiettivo di questo progetto è creare principalmente degli abiti di alta moda con un gusto fortemente appunto isolano che saranno diciamo la cornice o l'ispirazione meglio di quello che poi sarà successivamente una linea di pret-à-porter che verrà appunto pubblicizzata negli eventi successivi. Grazie.